Oh allora, mostri, soul? E' fermo, mi sei imputtanato al gioco, che cazzo. Devo di aggiornare la pagina, o comunque dicevo, cosa si usa solo il mouse? Si, usi il mouse, però anche nel primo livello, poi devi usare anche la tastiera, ovviamente. Tipo quello là, secondo livello diceva Goofy. No, ma anche Space. Sul forum aveva postato Goofy, nel secondo livello delle cucinelle, la che cazzo aveva detto. Quella difficile, poi vabbè il quinto livello, il terzo e il quarto te lo fa veloce. Ma almeno mi stimo messo a caricare lentissimo, che cazzo sta facendo, dai. Ma si, è un wine assurdo quando carica il gioco. Trigmo ce l'hai fatto a te? Oh. Sto parlando da solo. C'hai tempi di risposta alti. No, è che a me c'è un sveglio tutto. Ce l'hai fatta a fare il giochetto? No, l'ho mollato. E' un po' difficile. Troppo difficile, ma quanto c'è stato, tipo, a provare almeno? Che dopo un po' di minuti ce la fai comunque capire. No, cazzo, ho schiacciato l'home page. Ma si, dovrei schiacciare un pulsante, schiamo faccia start del desktop, non lo so. Ma solo ce l'hai fatta, se no. E' un po' di minuti ce l'hai fatta. Beh dai, con solo c'è gente tipo Shadow, c'è gli altri che ci siano stati tipo, oh boh, un quarto d'ora. Ma bisogna fare qualcosa col tasto destro, dimmi quello perché non so. No, il tasto destro no. Il tasto destro no. La tab, cazzo, non ci arrivo. Problem, ma dove vedi sto cazzo, problem? No, vabbè, oh, ci sta per rinunciare che stai vincendo. C'è qualche laminata sotto, già lo so. La porca muttana. Ma io come si fa sta merda? No, no, ragazzi, non siete reali, oh. Eh, oh, non si capisce, io ste minchiate qua de plescia non ne faccio mai perché gli son troppe la merda. Tu mi sei abituato a farla e ne sai ste roga. E beh dai, ti dico la soluzione. Eh, dammi un aiuto, semmai, dai. Non c'è nessun primo livello. Col gioco là è una trollata. Oddio. No, ma in. Per quando che si chiama dai? Per quando che si chiama dai? Per quando che si chiama dai? No. Eh, ma dai. Io ho capito la testa, forse che è andato. Però boh, inchiaffetto di puttana, non c'è un codice HTML per fare senza che l'ho tenato, tipo. Non so che gliela faccia. Oh, ma è un codice. Non so che intenzialmente.